Band di culto francese celebre in tutto il mondo per le sue performance musicali e visive, gli urban sax mancano dalle scene italiane ormai da due decenni ed anche per questo l'evento in programma venerdì 31 ottobre a partire dalle ore 19 in piazza Walter a Bolzano e di quelli da non perdere. Concerto ad ingresso gratuito dell'ensemble di fiati con musicisti che suoneranno sospesi sul campanile del Duomo e sulle facciate dei palazzi storici che incorniciano il salotto buono della città e per lo spettacolo Bolzanino Gilbert Armand, fondatore degli urban sax, non ha coinvolto solamente l'intera famiglia dei sassofonisti ma anche molti altri musicisti come bassisti, cantanti, vibrafonisti, violoncellisti e chitarristi. Ad essi si aggiungeranno i ballerini scelti dalla band francese nel centro di danza a Bolzanino di Angela Alvera. Questo evento è un concerto con circa un'ottantina di artisti che suoneranno e balleranno con il sassofono per i 200 anni della nascita dell'inventore del sassofono che era Adolf Sax. Questa è la prima collaborazione e coproduzione di questo genere in parte finanziata con fondi europei e in parte finanziata dal gruppo televisivo Arte. Infatti un mese fa il presidente di Arte dichiarò che partiva una collaborazione al di fuori di Francia e Germania e noi siamo praticamente le prime società che operano per Arte ufficialmente al di fuori della Germania e della Francia. L'evento Bolzanino verrà trasmesso in differita via satellite in 34 nazioni d'Europa e del Mediterraneo.